buonasera amici di nova news 24 al grande fratello vip questa sera succedono tante cose una di queste l'attacco spietato di sonia bruganelli danni di luca onestini luca tu quando sei entrato mi stavi anche simpatico e portato tanta allegria nella casa ma poi via via il tuo atteggiamento è diventato quasi quello di un buffone e infatti fai delle cose che a mio modo di vedere sembrano quasi da soppopera e non da reality sembra che tu faccia una commedia ogni giorno luca onestini prova a difendersi mentre orietta berti difende luca onestini dicendo che assomiglia ai bagnini degli anni 70 e proprio durante la puntata però dopo che onestini era stata chiamata in causa poiché c'era stato un diverbio con tra dana e sulla sua amica oriana e sembrerebbe proprio che luca onestini prova a difendersi dicendo che lui si sta vivendo il reality in maniera tranquilla cosa che però non viene sottolineata da sonia bruganelli a stoppare tutto però ci pensa alfonso signorini che toglie definitivamente la parola litigio tra sonia bruganelli e luca onestini quindi secondo sonia bruganelli luca onestini ormai sembrerebbe essere entrato in una soppopera e non in un reality amici di nova news 24 se state guardando la diretta diteci cosa ne pensate di quello che sta succedendo prima la lite di dana che si è litigata anche con edoardo donna maria ma è amica con la fidanzata antonella e poi anche con oriana e difesa ovviamente dalla sua grande amico luca onestini amici di nova news 24 vogliamo sapere la vostra opinione diteci cosa ne pensate nei commenti intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24 grazie a tutti grazie a tutti